Allora, il re di Sant'Agostino, chiari? Il re di Sant'Agostino significa perché mi conoscono tutti e mi vogliono bene tutti. Era lo scorso maggio quando ai microfoni di una trasmissione di Rete 4 si era definito re di Sant'Agostino. Adesso è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti ed è finito in manette. Nella serata, tra sabato e domenica, il personale della squadra volanti, diretta dal vicequestore aggiunto Marco Gallorini, ha svolto una serie di controlli nel cuore della città, a seguito di segnalazioni di furti tra piazza Risorgimento, via Madonna del Prato, via Spinello e Giardini del Porcinai. Gli agenti hanno proceduto all'identificazione di varie persone che avevano destato alcuni sospetti, tra loro anche il ragazzo che si era proclamato re di Sant'Agostino. In seguito alla perquisizione sono stati trovati 32 grammi di hashish suddivise in 15 stecche confezionate singolarmente e 1,37 grammi di cocaina già suddivisa in 6 confezioni termosaldate. Per il giovane sono scattate le manette per il reato di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Era in Italia senza documenti e per questo, in seguito all'udienza per direttissima, ne è stato disposto il rimpatrio. Perché non ho documenti? Se ho documenti vado a lavorare, vivo come tutti, esco, vengo qua, con i miei amici, capito? Cioè, bighellona, che fa? Non faccio niente, non lavoro, ogni volta faccio mariatore, lavoro. Vabbè, fa lavori saltuari si chiamano. Il nero. Lavori saltuari, ma non è che... Si chiamano così, ma ha fatto mai qualcosa che non avrebbe dovuto fare? Tutti la gente fanno cose che non avrebbero non fare.